Una colonna portante per l'economia del territorio, ma anche la consapevolezza che l'olio extravergine d'oliva va difeso e valorizzato, a Termoli la firma di un protocollo d'intesa per la promozione delle DOP e IGP locali tra la Regione Molise e l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, l'iniziativa in occasione della tappa del Giroglio d'Italia che sta attraversando il paese per dare impulso anche alla diffusione di uno stile di vita basato sulla corretta alimentazione e sullo sport. Innanzitutto il riconoscimento delle nostre radici, oltre che dell'olio, delle città dell'olio, perché siamo nati a Larino nel dicembre 1994, quindi di qui siamo partiti, abbiamo fatto tanta strada, 340 soci in tutta Italia, 21 anni di attività e oggi con questa tappa vogliamo esemplificare le eccellenze di tutta la Regione Molise. Tre giorni di convegni, corsi gratuiti di degustazione e attività sportive, non solo Termoli ma anche Campomarino e Guglionesi, un'occasione per rinnovare anche le attività di formazione rivolte agli studenti. L'olio e l'olivo rappresentano un legame straordinario tra la cultura alimentare e il territorio. Pensiamo che questo debba diventare sempre di più anche un terreno importante di formazione dei nostri giovani. Prima di tutto perché le risorse territoriali come l'olio costituiscono un'opportunità sul piano economico e occupazionale. In secondo luogo perché tutta la nostra società ha bisogno di riattivare legami che si erano spezzati tra lo stile di vita urbano e le risorse della campagna. Al convegno hanno partecipato le autorità locali e regionali, rappresentanti dei comuni che fanno parte dell'associazione nazionale. L'olio resta al centro della promozione del territorio in un comparto dove la tutela dei made in Italy, in questo caso in Molise, è fondamentale. Il nostro territorio che è così piccolo e con produttori che si conoscono bene deve avere l'ambizione di sovrapporre al territorio e alla qualità del prodotto alla faccia del produttore. La tipicità la si spende anche promuovendo le persone, la sapienza degli uomini molisani, la loro capacità di coltivare questa terra, la loro capacità di fare prodotti di eccellenza.